è stata una partita strana che con l'episodio dopo tre minuti ha condizionato il resto della partita ha cambiato i piani di come avevamo appunto preparato la partita di come dovevamo affrontare il chievo abbiamo fatto delle cose buone e delle cose meno buone miei compagni hanno approcciato bene la partita abbiamo saputo cambiare come dicevo prima in modo di interpretare la gara una volta rimasti inferiorità numerica possiamo andare da prendere altri ci siamo abbassati abbiamo difeso alla grande per un tempo concedendo un colpo di testa forse inglese un tiro a fuori area a dovano dice quindi abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi le dinamiche della partita con un episodio possono cambiare hanno trovato il gol secondo gol di inglese su un cross una gran palla un colpo di testa di maggiorini parato da me e poi la partita cambia sicuramente potevamo lavorare meglio come come linea difensiva su quelle due occasioni ma c'è anche da rimarcare la bravura di birsa in quel caso perché ha messo sia sul calcio d'angolo che che sui due cross dei due degli altri due gol tre grandissime palle però c'è sempre da migliorare si può sempre far meglio il secondo gol abbiamo preso su un cambio non eravamo ancora messi bene dovevamo essere un po più veloci a metterci a posto e l'abilità anche di birsa dei giocatori del chievo è stata attaccarci attaccarci lì sui social mi hanno scritto tante persone io non faccio fantacalcio tanti mi hanno chiesto se l'avevo parato o no ho risposto un ragazzo perché dalla mia prospettiva il tocco è stato anche un tocco importante non l'ho sfiorata diciamo però peccato che il rigore parato diciamo abbia dato solo l'illusione col vantaggio nostro e non sia servito poi ai fini del risultato finale quest'anno se non sbaglio hanno parato i tre con il preliminare a lucerna sì ho rimpianto per quello di bacca perché sapevo che tirava lì e ho studiato per andare lì e poi a volte c'è la frazione di secondo che dici no cambio e quella volta l'intuito non mi ha non mi ha portato un beneficio cosa che magari domenica mi ha dato perché avevamo preparato anche sul fatto che inglese potesse tirare il rigore centrale in coppa italia l'ha tirato l'ha tirato lì poi invece a volte un flash un intuito ti può ti può aiutare diciamo che da quando gioco ne ho parati ne ho parato qualcuno di rigore sempre una cosa in cui sono stato bravo e ne sono felice perché poi è la cosa più simile a un gol di un portiere è proprio è una soddisfazione un po fine a se stessa perché non si può valutare un portiere sul modo che ha di parare i rigori però sono quelle cose che che rimangono più negli occhi della gente come dicevo prima più simili ad un gol per un portiere interesse di classifica non verrà mai a mancare perché ci teniamo tutti a far bene a finire la classifica il più alto nelle posizioni più alte possibile fare più punti possibili perché abbiamo una squadra tale che ci permette di pensare positivo anche se magari una battuta d'arresto come quella col chievo può far calare diciamo l'umore però per me ci sono i primi e compagni ci sono grandi obiettivi da qui a fine stagione e dobbiamo cercare di di finire più in alto possibile innanzitutto dobbiamo dobbiamo arrivare a 40 punti dobbiamo arrivarci prima possibile quindi far punti cioè non bisogna accullarsi troppo sull'andamento di quelle sotto che come dici tu chiaramente un dato di fatto che stiano andando piano però bisogna fare punti perché ce lo meritiamo per il lavoro che facciamo in settimana e perché li dobbiamo fare l'udinese è un'altra squadra molto quadrata esperta come dicevate voi solo sulla falsa linea del chievo un attacco molto fisico giocatori di struttura giocatori forti giocatori anche veloci come come zapata è una squadra che dopo il cambio dell'allenatore si è messo a posto ha iniziato a fare punti è una squadra dove una squadra che se siamo giusti e sappiamo e faremo quello che che nelle nostre corde potremo mettere in grossa difficoltà